Sono rifatta tante volte a tanti film che ho doppiato, a Michel Pfeiffer, eccetera, per cui... Ma t'arricchisce, certo, assolutamente. Perché a certe volte magari su di noi riesce più difficile fare certe intenzioni, certe espressioni, poi fortunatamente qualcuno ce le suggerisce e via, e ce le rubiamo. Ma certo, quella è una tantissima palestra. Poi, quando ancora hai la fortuna di lavorare anche con dei grandi registi italiani, come ho avuto anch'io, Municelli, con Scola, eccetera, ecco lì che il doppiaggio diventa qualcosa di più, ancora più creativo. Assolutamente, come tu hai diretto poi con grande difficoltà, ma no perché era difficile il film, con Tornatore, sei stata sul pezzo tantissimo, su Bagariella, altri film che sta facendo. Lì poi il vero direttore è lui, perché... Sì, però siete un binomio vincente. Sì, sì, insomma, sono il suo aiuto, il suo, diciamo così, braccio destro. Beh, assolutamente. Ma perché certe volte non conosciamo il viso dei doppiatori? Meglio. Meglio di, certe volte è meglio di no. Voi conoscete me, Manuela, i nostri colleghi anche, sono colleghi. Vale, ma è meglio rimanere nell'anonimato da quel punto di vista. Anche perché poi potrebbe succedere che quando vai al cinema e conosci la voce, fai una sorta di... È la difficoltà che ho avuto io all'inizio, che dicono, oddio, sento questo e te vedo la faccia tua, non ci credo più. Ho dovuto superarla, questa cosa, tantissimo. All'inizio ho fatto pure tutto falso nome, un paio di ordinaria. Bene, c'è un film in particolare, il doppiaggio, che è stato proprio difficile. Io credo tutti, però c'è un film che ti ha creato qualche... Intanto io, Pino, ho doppiato una sordomuta. Ah, e quella è la domanda che avrei fatto proprio del film di Lattuada, Le farò da padre. Tu hai doppiato, vabbè, apriamolo questa... Questa abbiamo 30 secondi. Quando mi dicono, ma tu chi hai doppiato? Io ho doppiato maschi, bambini, coccodrilletti, e una sordomuta. E com'è stato il lavoro su? Non lo so, a parte è stato molto interessante, perché a quel punto io dovevo interpretare, dare delle emozioni e dire delle battute. Aveva dei suoni che parlano in un certo modo. No, non parlava neanche. Lai, attraverso dei suoni, doveva esprimere degli stati emotivi. Nelle condizioni come stiamo io e te oggi sarebbe perfetto. Io devo ritornare a tu. Sì, vieni.